Porca puzzarda! Lì nel buio sembrano esserci degli ascensori! No! Non posso entrare! Non posso entrare! Ok, non chiedetevi cosa ho trovato scappando. Ho trovato una cesta con una pozione di invisibilità che posso usare per entrare in quell'ascensore! Non mi vede! Posso entrare! Aspetta, ma che diavolo è questa cosa? Hai bisogno della chiave per aprire questa porta. Se non sei F, non aprire questa porta per la tua sicurezza. E sembra effettivamente che all'interno ci siano dei letti e dei cuori. È un leggio. Credo che questo sia il segreto di F e voi non mi vedete a cipicchia. Questo mi sembra un labirinto molto particolare perché praticamente... Oh mio Dio! E non riesco ad andare avanti, uffa! Però posso mettere le torce, questo sicuramente si può fare. Oh no! Ma che diavolo è pieno di pressure plate! Ok, mi sa che però devo seguire questo pattern, si dice. Cioè c'è questa cosa, questo percorso senza pressure plate. Perché se vedete qua non ci sono le pressure plate. E io posso andare furbamente, intelligentemente da queste parti. Stando molto attenti a non morire, per favore, perché è importante. Perfetto! Sono ancora vivo! Qua purtroppo ci sono delle cose che tu devi saltare. Perché se non le salti, cadi giù. E se cadi giù, cadi nel vuoto, come ben vedete. Quindi è meglio cercare di saltare. Ma che cavolo è successo qua? Perché è tutto buio? Allora, praticamente sono delle scale, questo è il prossimo livello. E io ho paura, sinceramente, di cosa posso trovarmi. Ok, ci sono dei magma block. Qua praticamente io devo camminare piano, perché se no qua mi scotto. Questa, sì, è la chiave della porta. E qua c'è un'altra chiave. La chiave segreta. Aspettate un attimo. Questa chiave, per cosa serve? Perfetto, mi ha tolto la cecità. A quanto ho capito, questa chiave apre appunto la porta. Invece questa qua, però, non so cosa faccia. Dobbiamo fare il percorso all'indietro. Ok, vediamo un attimo che cosa c'è qui. Perfetto, allora, tecnicamente ora potrei aprire con questa chiave la porta. Vediamo un attimo se funziona. Oh, sì, funziona! Ok, perfetto, sono all'interno della stanza. Ora, tecnicamente, qua dovrebbe esserci il segreto. La è la più hot di tutte. Vorrei proprio intrattenermi con lei e fare tanti, tanti cosa. Io so dove abitia. Oh mio Dio, che schifo, che schifo. No, 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 me ne vado immediatamente. Che schifo!